I'm so nervous. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi è sabato e io sono molto emozionata perché questo video è solo in italiano. Comunque ho molto da fare questa fine settimana e mi sveglio alle 8 e adesso voglio un caffè. Quindi andiamo a Starbucks perché mi piace Starbucks. Voglio ordinare con l'app. Sei gentile con me perché sto imparando l'italiano e non parlo molto bene. Andiamo. Allora mi piace il caffè freddo ma è freddo oggi quindi voglio un caffè. Mi piace un latte di soia o mandorla. Penso che è mandorla. Come si dice? Almond milk. Mi piace toasted white mocha. White chocolate mocha. Non lo so in italiano. E uno, due. Buono. Molto buono. Mi piace. Ok. Andiamo alla mia casa. Ciao, sono tornata e adesso devo finire un video, un nuovo video, un nuovo video per YouTube. È una giornata bellissima e quindi non voglio editare, non lo so, un video a tutti i giorni. Forse. Forse andrò alla spiaggia. Questo pomeriggio? Forse. Magari. Però adesso devo finire questo video e poi vedremo. Non lo so. Guarda che carina. Mi piace. Per Natale, le vacanze, the holiday season. Dai. Questo video è anche un vlog di fine settimana, weekend vlog, però in inglese. e voglio pubblicare questo video domani o lunedì. ciao! Ciao! E' Ora faccio colazione e ho una uova e avocado. Come si dice avocado in italiano? Penso che non è un parola, una parola per avocado, però non lo so. Pane e formaggio, cheddar, penso che non è comune in Italia, cheddar, formaggio, però è il mio preferito. Musica E' finito. Di solito mangio le uove, il pane, eccetera. Per colazione. Mangiamo, perché ho molto fame. Sono le dieci. Ciao. Ciao. Sono le due e mezzo, ho finito il video e ho pranzato. Ora devo restituire due pacchetti. E anche stasera voglio provare a cucinare la carbonara. E quindi devo comprare le cose per la ricetta di carbonara. E sì, niente. L'ufficio postale. Andiamo all'ufficio postale. All'ufficio postale. All'ufficio postale. All'ufficio postale. Questo è troppo comune e è frustrante. Voglio andare al supermercato e voglio essere tranquilla. I just wanted to be a peaceful visit. Come si dice, I just want a relaxing visit to the grocery store. Comunque, ho comprato il cibo per la ricetta di carbonara. Ok. Purtroppo non posso trovare guanciale, però ho comprato pancetta e pecorino romano. E ovvio, spaghetti. E le uove. Sì. Devo organizzare e pulire questo scaffale perché è molto disorganizzato. E i miei trucchi e prodotti, skin care prodotti, non so in italiano. E sì. Molto molto disorganizzato. Ok. 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 Grazie a tutti.